ciao a tutti e benvenuti su cantare rembi mi presento io sono alessia ma potete chiamarmi ale e sono tornata finalmente sono veramente contenta di essere tornata è tantissimo che non butto fuori un video e infatti me lo scrivete tutti quanti su instagram sotto i video ale come mai non fai più video non c'è un come mai la vita va avanti ma ho sempre pensato a voi e per oggi ho preparato un bel video dedicato proprio a voi perché è un argomento che mi richiedete sempre e della quale volete sapere di più e che è ovunque in questo momento quindi ho pensato quale miglior maniera per ripartire che non elodie in questo video vi parlo di elodie della sua voce del suo personaggio poco più della sua voce di quello che penso di lei ovviamente ragazzi sapete quando venite nel mio canale che i pensieri sono i miei e di nessun altro magari non siamo tutti d'accordo meno male che è così se avete comunque qualcosa da dire vi propongo di scriverlo qui sotto nei commenti bello brutto che sia io leggo sempre tutto vi chiedo solo di essere educati e quello mi sembra il minimo e di non prenderla su personale ragazzi ripeto queste sono solo le mie idee quello che io sento e comunque sono sempre filtrate dalla mia personalità dalla mia esperienza di vita sia come cantante che non quindi ognuno si crea la sua idea vi dico se vi interessa stare qui quello che penso io di elodie allora è una cantante che per me è abbastanza lontana dai miei gusti non è una cantante che seguo ovviamente e le canzoni tormentone le conosco perché è proprio possibile impossibile evitarle però ho dovuto andare un po più a cercare qualcosa che non fosse l'ovvietà di quello che ho sentito in questi giorni e come ho fatto ho fatto chiedendo a voi su instagram di suggerirmi qualcosa da ascoltare di suo per farmi proprio un'idea di chi è la sua voce ok mi avete ovviamente risposto in tanti così grazie a dio sono riuscita a farmi una idea ma questo video è basato anche e forse soprattutto su una live molto recente che ho sentito fare il live mi piace sempre per chi riesco a capire molto di più della voce e anche del modo di quel cantante no e ho trovato questa live fatta per la levis e vi metto il link qui sotto nella quale elodie canta quattro dei suoi pezzi più famosi andromeda guaranà bagno a mezzanotte e un'altra che vado a rivedermi perché non mi ricordo il titolo e lo fa in un modo molto acustico cioè ha solo un pianoforte un pianista che suona per lei e due coriste che danno molto peso all'esibizione cioè tolte le coriste lasciata lei da sola con il pianoforte sarebbe stata una cosa abbastanza diversa ok quindi considero anche questo in tutto quanto il minestrone che sto valutando no e comunque sì a parte le coriste vi dico che cosa penso che cosa ho sentito e percepito io trovo credo che elodie sia un po difficile da classificare come classificazione vocale perché credo sia un mezzo soprano anche se ho qualche dubbio sul contralto però del contralto forse non ha la pasta la pasta scura diciamo le manca questa questo peso nella voce che mi fa mi farebbe più dire contralto forse in realtà non è molto spostata verso i toni gravi più che altro non ha una grande estensione vocale la pasta della voce è molto particolare e si piazza proprio là in mezzo tra mezzo soprano e contralto cosa che non è non ha così grande peso per me però so che voi volete sempre sapere considerate sempre che anche le classificazioni non si fanno solo da che nota grave a che nota acuta arrivo ma ci sono tanti elementi e comunque la classificazione viene sempre fatta da una persona quindi da un orecchio e perciò in mezzo c'è anche il giudizio di quella persona per me è molto relativo quando non si parla comunque di parti di musica classica quindi di canto lirico per me è abbastanza relativo e superfluo classificare una voce perché tanto non c'è la necessità di affidargli una parte in particolare quindi però so che voi lo volete sapere quindi questo è quello che penso sono molto indecisa ovviamente voi sapete che la voce naturale della persona è quella con cui la quella persona parla in uno stato fisico sano cioè non da malata o non con injuries cioè problemi vocali eccetera la voce con cui parla è la voce di petto quindi partiamo dalla voce di petto che è una voce molto particolare già nel parlato che ha in sé abbastanza aria e abbastanza graffio non spazia moltissimo come dicevo e la maggior parte delle sue canzoni ed anche per questo mi era difficile un po classificarla resta sempre nelle stesse note potrei togliere proprio bagno a mezzanotte che infatti quando l'ho sentita anche per la prima volta avevo subito detto wow diverso dal solito e dopo vi spiego perché e mi aveva subito fatto pensare no ma perché non faccio un video su elodi perché comunque quello che sento c'è da dire no la canzone a cui facevo riferimento vediamo così vi do anche un proprio un riferimento musicale no guaranà andromeda resta sempre più o meno lì e lo fa anche con un atteggiamento molto rilassato dici sono una grande quindi è molto rilassata e non muove molto la bocca dici sono una grande sta che non ci sa fare una donna poco elegante note sono sempre quelle molto rilassato quasi collassato questo fa parte anche dello stile è una scelta inoltre sento che ha la voce situata molto indietro dici sono una grande dici sono una grande e non proiettata verso in avanti ok quindi la differenza sarebbe in avanti dici sono una grande la cosa può essere d'aiuto perché la voce tenuta così molto rilassata molto indietro è molto più facile da guidare dici sono una grande anche il vibrato è molto più più facile viene quasi fuori da solo quello che manca è l'impatto ok in una voce che ha meno peso è più facile controllare quello che si fa ma sia meno impatto ok infatti penso che possa essere il pensiero comune che la voce di elodie non è una voce di impatto ok per ora nelle note più gravi invece stranamente sento più nasalità e più twang e credo che sia anche un po un fattore proprio di conformazione cioè di come è fatto il suo viso di come è fatto il naso fate caso alle persone quando cantano anche alla forma del naso ok perché vuol dire tantissimo io per esempio il naso stretto strettissimo canterei diversamente se avessi un naso che questa parte sarà molto più ampia ok allora passiamo alla voce di testa no perché lei dà spesso la sensazione di essere in falsetto questo perché ha molta aria nella voce ce l'ha anche nella voce di petto ok quindi non tutto quello che ha aria è voce di testa o falsetto per gli uomini perché io potrei cantare la la due cose diverse ma non per questo è falsetto quello che canto con tanta aria anche se non la conosco la vedo come tutti voi da un video credo che sia in parte una insicurezza vocale e in parte forse supportata dal sapere di non avere tantissimi toni acuti infatti nel nel video della levis le coriste fanno tutte quante come da sostegno da supporto alle parti acute mantenendo anche loro sempre un timbro arioso perché così è coeso ok a un solo colore altrimenti se loro fossero se loro fossero e lei fosse cozzerebbero no quindi anche loro hanno hanno scelto di mantenere quel timbro arioso per creare questo suono arioso tutte insieme però le danno questo sostegno nelle parti acute che lei fa ma ha un volume basso ok e che in alcuni casi ha proprio affidato per esempio su bagno a mezzanotte tutto il bridge lo canta la corista mi è venuto al dubbio del perché hanno scelto di farlo fare a lei e mi viene da pensare per un'insicurezza di magari non farlo bene e lo dì non lo so mi piacerebbe saperlo ma non lo so però appunto secondo me lei dovrebbe finalmente tirar fuori anche le note acute perché considerate che tutti le hanno potenzialmente non tutti fino allo stesso punto ok ma comunque ognuno di noi le ha perciò tiriamole fuori è che lei ha appunto sempre questo suono soffiato non proiettato ok che la rende sempre così come una specie di falsetto credo che sia anche qua in gioco qualcosa di proprio fisiologico perché anche quando parla comunque lei ha questa voce ariosa e un po' rauca così no in tutto ciò devo dire che è comunque molto precisa in quello che fa credo che lei abbia scelto di non fare certe cose perché per adesso non le vengono bene potrebbero essere mie recuperazioni potrebbe tranquillamente essere così però ho questa sensazione ok di perfezionista passiamo al belting guardo lì perché ho le note ovviamente scritte mentre ascoltavo l'esibizione parliamo del belting allora ci sono delle gravi difficoltà nel belting e secondo me sono dovute a un deficit sul diaframma potrebbe aiutarsi molto molto di più secondo me lei dovrebbe lavorare molto di più sul suo diaframma il che le darebbe una grandissima libertà in più perché ovviamente più sostegno ai più note ai più facile è la coordinazione quindi puoi scegliere molto di più tra tutte le cosette che sai fare quale utilizzare in quel momento andromeda ho sentito prima una volta cento volte chiedimi perché io se non avessi ascoltato lei avessi solo dovuto cantare la canzone avrei cantato una volta cento volte chiedimi perché lei invece è come se quasi escludesse a me da questa sensazione qui stiamo a fare stiamo lì è un po a rompere le balle diciamo a analizzare ogni cosa è solo per spiegarvi che probabilmente potrebbe avere molto di più usando il diaframma bene e quindi io glielo consiglio vivamente per esempio su una canzone che fa vieni più vicino lasciati guardare che negli occhi tuoi io ci vedo te non ci vedo il mare ci vedo già un piccolissimo sforzo nell'approccio quando queste note non sono invece sforzanti per una cantante che ha una voce di questo range vieni più vicino lasciati guardare che negli occhi tuoi io ci vedo te non ci vedo il mare cioè semplice ci vedo già una difficoltà ma perché dobbiamo renderci la vita difficile quando abbiamo il nostro diaframma che ci può aiutare se impariamo ad usarlo per invece parlarvi di un aspetto che mi piace veramente non che non mi piacesse quello prima però stavamo un po dicendo forse punti un po più deboli quello che mi piace è che è precisissima è precisissima nell'intonazione e non lasciatevi fregare dalla parola autotune perché quello comunque ce l'hanno tutti anche dal vivo un minimo c'è sempre però non fa la grossissima differenza se uno è stonato è stonato cioè non è che diventa un cantante piccolissime inflessioni piccolissime imprecisioni si possono sistemare live parlo mentre in studio possono fare tutto quello che vogliono nel live ci sono delle piccole cose che possono essere limate o tirate un po' di qua o tirate un po' di là ma comunque non troppo e lei è stra precisa tutto quello che si scrive e quello che lei canta viene cantato perfettamente intonato a tempo perché anche stare sul tempo non è per tutti e comunque sempre molto molto preciso anche nella parte ha una discreta dinamicità un movimento nella voce sa utilizzare alcuni elementi come di cry sa utilizzare il twang il cry 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 questa cosa qua il vocal fry che a me sentite in questo video durante tutto il tempo perché sono stanca quindi devo dire che al di là della tendenza dovuta allo stile musicale che è quello un po' pop trap che si usa adesso che quindi è molto rilassato indietro come sempre un po' in ritardo lei è sempre nel tempo precisissima non ho mai sentita sbagliare una nota o attaccare calante attaccare crescente precisissima infatti questa cosa mi piace un sacco perché lo fa comunque con una precisione che non è artefatta è proprio lei che funziona bene da questo punto di vista penso che posso darvi le mie personalissime conclusioni io non cambierei niente in melodie perché il timbro è naturale non è artefatto è lei è così è la sua voce e già mi piace lavorerei di più sul diaframma per accedere e liberare le note che non sono ancora libere non sono ancora accessibili e le note anche che fa magari con più difficoltà perché non ha senso far difficoltà su cose che invece si potrebbero utilizzare semplicemente facendo degli esercizi in più come vi dicevo per fare questa analisi oltre ad aver ascoltato i brani radio edit diciamo che non mi piacciono granché perché non mi piace lo stile ho ascoltato questo live i brani me li avevate suggeriti voi su instagram e vi metto qua il mio indirizzo instagram perché spesso faccio domande sui video nuovi che devo fare chiedo a voi e quindi avete magari l'occasione di aiutarmi con gli argomenti o con le cose che non so però vi consiglio di andarvi a vedere questo live acustico per il futuro mi piacerebbe e speravo anche di trovare nei suoi dischi mi piacerebbe sentirla in qualcosa che avesse più un peso armonico un peso nella linea vocale parlo di peso non come impatto parlo di peso proprio come qualità no perché secondo me lei è una che potrebbe creare delle bellissime cose tra l'altro il fatto di averla vista live mi ha permesso di sentire meglio le parole dei brani che sono belle è la classica cantautrice che parla della vita vissuta no e quindi è molto relazionabile con tutti quanti noi no e mi fa piacere averla ascoltata meglio dal punto di vista proprio autorale di quello che scrive e credo che sia una persona anche molto profonda ovviamente sono tutte mie impressioni però di solito non sbaglio mi piacerebbe sentirla magari in una bella ballata mi piacerebbe sentirla in qualcosa di più artisticamente complesso non che per forza dobbiamo fare la musica stramba cioè di fare un passo un salto di qualità ok la vorrei vedere fare un salto di qualità considerate che gli artisti che voi vedete sono praticamente molto poco liberi di fare quello che che vogliono e ci sono un sacco di canzoni di tantissimi altri artisti tantissimi artisti che parlano del fatto che non possono esprimersi come vogliono e mi ha fatto infatti anche molto pensare una frase che le ho sentito dire in un'intervista che diceva che tutti quanti tendono a inscatolarla in un personaggio no e che invece lei non vuole essere etichettata però devo dire che anche dal punto di vista musicale e del personaggio che si è creata la vedo invece un po standardizzata e secondo me questo non viene da lei anzi penso che sia molto più di questo mi piacerebbe sentirla cantare qualcosa di veramente molto passionale di quelle cose che ti fanno venire i brividi perché per adesso quello mi è veramente mancato anche se mi sono avvicinata molto di più a lei sentendola in questa versione quindi la incoraggerei un sacco verso quella direzione lì e spero spero che veramente di sentire qualcosa di nuovo di solito avviene con l'età e anche con il peso che uno ha nella casa discografica di potere decisionale di dire ok adesso faccio però anche quello che piace a me no perché di solito le case discografiche non ti permettono cioè anche solo la scelta dell'orecchino va pensata e va comunque concordata quindi tra l'altro lei ha un'immagine molto molto americana cioè è molto proiettata in quello che succede di là infatti è stata criticata e non capisco perché quando viene dall'america ci va bene quando viene dall'italia poi una figura così esotica e anche così così veramente ipnotica come a lei perché non ci giochiamo cavolo se è arte serve anche a quello no cosa ne pensate bene mi è piaciuto fare questo video non fa parte delle mie corde diciamo però ci vedo un futuro diverso che poi piacerebbe a me che cambiasse magari lei non vuole cambiare voi non volete che lei cambi è solo una cosa mia personale questo è il quanto vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me se avete suggerimenti mi raccomando potete lasciarmi lì qua sotto o anche venire sul mio instagram a dirmi batti un colpo mi piacerebbe sapere di questo argomento io leggo sempre tutti non riesco a rispondere perché sono solo io che faccio il tutto quindi faccio veramente fatica a rispondere però vi leggo tutti vi ho tutti nel mio cuore sono contentissima di essere tornata qui con voi ci saranno un sacco di novità quindi niente stay tuned e vi abbraccio come sempre vi mando un grandissimo bacio